eccoci finalmente sono ritornato a parlare di technics 1002 questo è un nuovo video della mini guida che sto realizzando per voi iscritti del mio canale ma anche le persone che vogliono informarsi su questo mitico giradischi al fine di poter procedere ad un acquisto molto più consapevole allora parliamo del braccio del technics il braccio è una delle parti più delicate del giradischi technics 1200 1210 è un braccio di tipo tradizionale ed è composto di un articolazione realizzata con questi archetti che vanno a sostenere il braccio e permettono il suo corretto movimento quindi può alzarsi abbassarsi e può ruotare al fine di seguire la traccia attraverso la stilo attraverso la testina del vostro giradischi cosa dobbiamo osservare del braccio prima di acquistare un giradischi dovremmo accertarci che questi ruoti in maniera corretta libera e soprattutto che non abbia un leggero gioco un leggero movimento quando andremo a fare questo tipo di ed esercitare questo tipo di forza nel caso in cui sentiamo che il braccio ha una qualche incertezza si muove all'interno di questi archetti allora vuol dire che molto probabilmente il braccio è danneggiato ma dove è danneggiato in questi punti o nella parte superiore o nella parte inferiore e cioè dove sono alloggiati i cuscinetti che permettono al braccio la rotazione in orizzontale che cosa c'è da dire inoltre che il braccio una volta accertati che ha il cuscinetto inferiore o superiore rotto c'è poco da fare nel senso che o comprate un micro cuscinetto io utilizzo quelli per le macchine radio telecomandate quindi dei micro cuscinetti a sfera scavate all'interno e posizionate un nuovo cuscinetto però non sarà mai come quello lì originale che questo vedete si vedono all'interno le sfere anche questo cuscinetto è ammaccato e rotto qui sul fondo invece è totalmente stato rimosso rotto infatti non ci sono più nemmeno le sfere il foro di entrata della vite conica allargato quindi in sintesi voi dovete controllare che non ci siano giochi che il braccio sia fermo e così facendo potete essere quasi certi che il braccio è funzionante o comunque non ha problemi gravi nella nel movimento inoltre c'è da dire che prima di acquistare un giradischi technics io consiglio sempre di far passare far scorrere le dita lungo la canna a forma di s perché fare questo movimento perché molto spesso i giradischi technics venivano collocati all'interno dei flight case per il trasporto nei vari locali succedeva che i flight case usati o comunque non di buona qualità permettevano il piatto all'interno del flight case di muoversi quindi spesso il peso del giradischi andava a scaricare sul braccio e sul blocco a braccio a c non di rado infatti capita di trovare dei bracci che hanno come potete vedere in questo punto un'ammaccatura dove veniva bloccato con il blocco a c il vostro braccio quindi qui potete notare l'ammaccatura che al tatto ve ne accorgite immediatamente quindi accarezzate la canna ad esse e controllate che non ci siano ammaccature sensibili i cuscinetti vedete sono posti anche lateralmente il braccio questo è un cuscinetto integro e il funzionamento faccio vedere con la vite conica è questo la vite va ad entrare nel cuscinetto e permette un fluido movimento il braccio inoltre è composto anche di un attacco per le vostre shell controllate se all'interno i pin i quattro pin sono presenti e se sono puliti e se questa componente la rotella che permette l'aggancio e lo sgancio della shell sia libera oppure come questo un po difettoso poi cos'altro c'è da controllare sul braccio oltre le ammaccature come vi dicevo adesso ve ne mostro altre guardate questa canna in questo punto è ammaccata quest'altra è ammaccata in quest'altro punto vedete questa è totalmente mangiata distrutta una volta fatta questa indagine preliminare sul braccio del vostro giradischi andate a controllare anche un'altra cosa un dettaglio che in realtà andremo a controllare anche per quanto riguarda altri componenti del giradischi technics di cosa sto parlando del tappino in gomma presente sulla base di attacco del vostro braccio adesso faccio uno zoom per mostrarvelo in maniera più corretta ecco sto parlando di togliamo questo peso questo è un braccio rotto parliamo di questo tappino che cos'è perché è posizionato in questo punto questo tappino di gomma allora il motivo è molto semplice perché in realtà technics quando ha prodotto i 1200 utilizzò dei bracci che vennero già utilizzati da altri giradischi questo in particolare un tecnics 1210 prima serie che monta lo stesso identico braccio montato sul technics 1600 1700 per intenderci ce ne accorgiamo perché l'archetto più piccolo questo qui l'archetto più piccolo non è dritto ma ha una rientranza vedete questo archetto dove si avvita la vite conica ha una rientranza cosa che invece qua non c'è quindi questo è un braccio utilizzato nel prima serie lo troviamo nel prima serie ma lo troviamo anche nei 1700 1600 giradischi di ottima qualità che sono praticamente uguali ai technics 1200 se non per alcuni dettagli ed automatismi ma l'elettronica è la stessa allora il tappino in gomma ci va ad indicare che questo giradischi appartiene ad un anno di produzione che può essere collocata dal 1979 1980 fino 1989 90 quindi quando andate a comprare un giradischi technics a mio avviso la prima cosa da controllare per quanto riguarda il braccio è la presenza o meno di questo tappino sarà un indicatore di età questo giradischi è un prima serie quindi è una technics 1200 che non ha nemmeno determinati accorgimenti che vennero utilizzati ed adottati nelle serie successive delle mk2 1200 e 1210 quindi è quasi un prototipo se vogliamo definirlo così se hanno questo tappino i giradischi technics vengono collocati in un passato remoto quindi sono giradischi che molto probabilmente hanno dei difetti potrebbero avere più difetti di altri nel movimento del braccio questo perché i cuscinetti potrebbero essere arrugginiti la canna del braccio potrebbe essere ammaccata perché può avere avuto determinate pressioni quando era ferma sul blocco a c del del braccio e quindi ci esponiamo ad un rischio sicuramente maggiore di altri piatti che sono sprovvisti di questo tappo e quindi si collocano in un arco temporale dagli anni 90 fino agli anni 2005 2004 quindi prestate molta attenzione quando acquistate un giradischi con questa particolarità inutile dirvi che non è soltanto una questione estetica questo tappino era utilizzato questo braccio come vi ho detto nelle serie precedenti del technics sl12 e veniva utilizzato per fare un settaggio sugli automatismi qui al di sotto di questo tappino c'era una una vite un controllo che veniva più o meno girato e per effettuare delle dei setup delle calibrazioni del giradischi nel technics sl12 essendo totalmente manuale questo tappino al di sotto di questo tappino non troverete nulla voglio aggiungere inoltre che un giradischi come questo che ha il braccio rotto questo caso non c'è proprio il braccio è un vero problema perché i giradischi technics hanno avuto un rincaro molto elevato nei pezzi di ricambio e purtroppo il braccio è uno di questi se trovate un ricambio originale nuovo purtroppo non lo pagherete più non lo pagherete meno di 200 250 euro quindi è una spesa che si fa sentire fa lievitare il costo del vostro giradischi quindi fate molta molta attenzione quando volete acquistare un vostro giradischi technics controllate che il braccio sia efficiente e funzionante non abbia ammaccature altrimenti sarete costretti a sborsare un bel po di soldini sono però dell'opinione che c'è una soluzione alternativa grazie alla grandissima diffusione di questo braccio che viene montata anche su altri giradischi forse farò un video speciale in aggiunta a questo voglio renderlo però esclusivo agli iscritti poi cercherò una soluzione per venire incontro alle esigenze anche del canale dove vi farò vedere come riparare il braccio quindi la sostituzione dei cuscinetti ovvero vi mostrerò quali giradischi potete acquistare e come modificare il braccio al fine di poter rigenerare il vostro technics con una spesa molto più accessibile aggiungo inoltre che la scelta di un giradischi con il tappino in gomma o sprovvisto del tappino in gomma non è soltanto di natura estetica non è soltanto un capriccio estetico ma tenete presente che i piatti che montano un braccio con il tappino sono indicatori di alcune soluzioni che technics scelse per produrre i suoi giradischi che poi vennero migliorati negli anni quindi nelle serie successive sprovviste di questo tappino quali sono le differenze tra i giradischi con il tappino e quelli sprovvisti dal tappino lo vedremo nei prossimi video perché dovremo andare ad aprire il giradischi vi farò vedere la scheda madre e tutte quelle parti quei componenti che sono state poi sostituiti cambiati modificati dalla casa giapponese vi ricordo in ultimo che se non siete ancora iscritti al mio canale cliccate sul tasto iscriviti se avete qualche dubbio lasciate un commento se vi è piaciuto il video cliccate su like cliccate su like